Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori Allora, il scorso video è andato abbastanza bene, esordi in campionato, 3 punti portati a casa, ma prima di tutto questo Mi stavo completamente a scordare, vi ricordo di iscrivervi al canale, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che sta dando a questa serie Spero che continui a piacervi per andare verso la Premier signori Vi ricordo di seguirmi su Instagram, soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione giornaliera dei video e delle live Perché sia su questa piattaforma che su quella viola, ovvero su Twitch, facciamo una live al giorno E lì vi informo sull'orario e quindi per essere precisi e poter partecipare a tutti quanti Vi ricordo di seguirmi anche su Twitch Dei due signori, partiamo con il video Ok signori, allora io sto registrando questo video di oggi, lo sto registrando subito dopo quello di ieri Quindi non avrò il tempo di leggere i commenti che mi avete lasciato ieri Ma lo farò con calma e vedrò eventualmente di apportare delle modifiche che mi suggerirete Ok, allora signori, noi abbiamo la seconda partita di campionato contro il Colchester Perfetto, ok, diciottesimo Noi io direi di mantenere la stessa squadra Quindi dico, non facciamo grossi cambi Anche se Giardino ha bassa lucidità Quindi potremmo dargli un turno di riposo e far giocare Pringles Direi di sì Quindi direi Giardino in panchina e Pringles in campo Gli altri sono un po' giù di faccina, non so il perché Ma se devono stare tranquilli perché devono giocare loro Quindi non mi devono rompere le scatole Detto questo, perfetto Confermiamo la formazione e andiamo in campo Con del Colchester, seconda di campionato signori Simulazione veloce, incrociamo tutto l'incrociabile Siamo al Globo Arena, casa nostra Morecambe e Colchester, che famo? Nooo, perdiamo 3 a 2 Ma che schifo Vantaggio di Brawl, pareggio di Sullivan 2 a 1 di Poku Le Smith 2 a 2 Pella all'ottantaquattresimo Dai, ma che schifo Perdere 3 a 2 non ci sta la seconda di campionato Signori, valutazioni Non abbiamo avuto nessuna sostituzione Bravo il mio secondo Perfetto, che non ha sostituito nessuno E la squadra è andata sotto Va bene, va bene, ok Una vittoria e una sconfitta finora in campionato Va bene, va bene, va bene Non demordiamo Ricordiamo che l'obiettivo di questa stagione signori è Quanto meno non retrocedere Ecco, non arrivare proprio nelle ultime posizioni E non farci esonerare Questo è fondamentale Ora abbiamo il Colchester di nuovo in Coppa Allora, vediamo se qui Gli allenamenti li abbiamo fatti Sì, sì, quindi simuliamo tutto Bella così Ok, bravissimo E andiamo avanti alla prossima partita di Coppa Di nuovo contro il Colchester Qui facciamo qualche cambio signori Perché se no Se no mi muore veramente tutta la squadra Allora, dai, dai, dai Offerta per il trasferimento E di chi? Offerta per il trasferimento di Lavelle No, Lavelle non se l'ha Lavandino non se ne va Nostro Lavandino Abbiamo il soprannome per Lavelle Lavandino non se ne va da nessuna parte Rifiutiamo l'offerta E ci teniamo il nostro Lavandino Abbiamo già trovato i suoi nomi Abbiamo Giardino Abbiamo Pringles Abbiamo Lavandino Bella così Allora Fermi tutti Facciamo qualche cambio Tanto siamo in Coppa Signori Come l'anno scorso A noi ora come ora Le Coppe non ci interessano Quindi facciamo giocare Tutti quanti i sostituti Gioca Giardino Gioca Kanon Anche se non gli piace Gioca Song Go Anche se non gli piace Un esterno destro di cambio Non ce l'abbiamo Ci abbiamo Wilding No Come non abbiamo nemmeno Un esterno destro No Va bene Via Lavandino Dentro Davis Via Persil Dentro Vasino Vasellà Vasellà diventa Vasino Che neanche lui sa fare Il difensore centrale Ma Gibson Va bene E fuori Aldsett Dentro Mendez Va bene signori 11 su 11 Proprio cambiati completamente tutti Perderemo malissimo Contro il Colchester Ma non ha importanza Mi serve per far giocare Anche gli altri giocatori Del I panchinari Che praticamente Guardate E' terribile Meno 3 Meno 7 Meno 2 Ma me la spiegate giusta Nei commenti Questo discorso De meno 3 Cioè Vaselà E' un difensore centrale Perché è meno 2 Forse perché Può essere che lo devo E' in piede E' in piede destro Vaselà Vaselà E Ti vediamo se la mettiamo di qua No Rimane sempre meno 2 Ma perché rimane sempre meno 2 Signori Bah Spiegatemelo nei commenti Non capisco perché mi rimane Sono difensori centrali Non capisco perché Non sa fare il difensore centrale Quanto perdiamo No vabbè Vinciamo 3 a 1 in Coppa Signori Ma di che stiamo dicendo Con i panchinari 3 tiri 3 gol Va bene così E' segnato giardino McCullenden Hullenden McCullenden E Gibson Mel Gibson Il nostro Mel Gibson Signori Altro Insomma Non mi ho trovato E' uscito Canyon E' entrato Pringles Va bene Va bene così Avrei preferito Vincere in campionato E perdere in Coppa Però va bene così Andiamo avanti in Coppa Va bene Superfluo Superfluo Dico dettagli che certe volte Non capisco Però va bene Avviciniamoci alla prossima partita non abbiamo nemmeno il tempo di fare un allenamento offerta per il prestito di price price ma price è messo in prestito sì se non ricordo male sì il nostro pringles il nostro pringles è messo in prestito lo vogliono per con diritto di riscatto rifiuto offerta tratta o delega stipendio valore scusami e quant'è il diritto di riscatto e che 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 messo posto via così no andiamo a trattare che sto posto via così scusatemi col senza che mi informano sul diritto forse non l'ho letto io eccolo qui il nostro maullo che va tra eccoci qui finalmente salve benvenuto mi fa piacere vederla salve prestito con diritto di riscatto offerta offre prestito diritto di riscatto e ma quant'è il diritto di riscatto signori questi se lo sovigliano a poco ma non ho capito offre prestito senza diritto di riscatto ma io accettiamo signori un domani capiremo come tanto tutta questa potenza sto price non è che mi sembra non ho capito bisogna durata di un anno ok stiamo ancora trattando accetta va bene un anno mi sta bene divisione stipendio 805 lui prende 850 60 40 no contro offerta se volete possiamo fare al contrario così è de de no so scemo no ma quanto sono scemo signori loro pagavano e 60 e nel 40 abbiamo fatto al contrario è certo che gli piace prezzo futuro cartellino va bene l'abbiamo presa dall'inzaccoccia praticamente offriamo siamo distrutti a offrire 200 210 per price ok e quanto vale price signori non so quanto valga price contro offerta rinegozio offerta del cartellino almeno 350 ne voglio non so quanto valga price signori quantomeno ci ripetiamo i soldi del del dello stipendio che gli stiamo da mi dispiace ma siamo siamo interessati ma questa è il massimo di 2 10 più la rivendita allora la rivendita te la tieni per i propri per i tuoi giocatori che non me ne frega niente rinegoziamo l'offerta del cartellino non volete arrivare a 23 50 arrivamo a 300 signori se volete questo se no quella è la porta pagheremo la somma richiesta perfetto ok speriamo che price li convinca e che questo ci dia questi bei 300 mila euro quanto valeva valore vale 200 dai dai va bene ricordiamoci di vedere sempre il valore signori comunque vale 200 buono buono peccato per lo stipendio l'abbiamo presa in zaccoccia con lo stipendio e va bene errori che non faremo in futuro errori che non faremo in futuro e price forse e poi no price ce lo siamo levati alle dalle scatole bene così buona così let smith vuole giocare va bene let 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 caro giocherai non ti preoccupare stai tranquillo rilassati ci penserò ecco rimaniamo sempre sul vago così non 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 si fanno strani strani pensieri rimettiamo i titolari signori devo fare quel discorso del delle formazioni predefinite così almeno non perdiamo questo tempo in queste in questi attimi vabbè che ancora sono i primi episodi quindi ce lo possiamo permettere fuori giardino po 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 pringolo il distrutto quindi gioca nuovamente giardino fuori mel gibson dentro henry fuori vasino dentro lavello vasino lavello mamma mia che che bene sostituti che abbiamo vasino e lavello e in porta rimettiamo al stad va bene va bene non ho controllato la panchina va bene ma non dovremmo essere coperti anche in banchina salford morecambe signori vediamo che facciamo oggi simulazione partita simulazione veloce giochiamo erano a casa nostra no erano a casa loro che famo 11 ma insomma anderson ha sbagliato un rigore penso hunter è uscito hanno segnato loro il 55 seconda anderson abbiamo parigiato una del 59 seno con mccullin den va bene è uscito le smith per mccullin den questo mercolino sta facendo bene bisogna tenere sotto occhio sta facendo bene questa mccullin den terza partita andata dopo tre partite una vittoria una sconfitta e un pareggio dai il cammino non questo mi ringrazio ve l'ho fatto giocare va bene andiamo avanti aspettate prima andiamo a leggere le mail che è successo che pensieri incredibili un attimo il gioco la ringrazio aver fatto giocare prestazione autorevole e mister le cose stanno andando molto bene per noi ultimamente se quando ci tenga a giocare per lei per questo che mi chiedevo dunque se non fosse il momento giusto per parlare del rinno al mio contratto vorrei avere maggiori rassicurazioni sul mio futuro persi va l'abbiamo rinnovato il contratto ne riparleremo ma persi va l'altro te lo rinnovato il contratto ma si fumano qualcosa qui in mare gambe in questo anno che è passato o abbiamo l'ultimo esercizio che non l'abbiamo fatto vabbè per questa volta simula signori se si simula simbriamo di quando quando tu simboli a prescindere prendi di è assurda come cosa va bene va bene la prossima volta me lo gioco fa 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 culen va bene arriviamo alla prossima partita price andate in prestito ottimo ottimo noi siamo senza squadra signora signori davis che vuole davis price andate in prestito ok mi sento in forma vorrei scendere in campo ci vencerò allora price vuole giocare quindi mettiamolo subito in campo sennò poi il rischio di dimenticarlo papà 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 posto di percival dai davis giochi tu dai così lavandino la mettendo da quel lato e giardino non ce la fa più è morto gioca pringles saliva al diacoglera va bene va bene così signori va bene così lasciamo la squadra così già pronta per la prossima partita e noi siamo in questo momento siamo undicesimi in campionato con quattro punti dopo delle giornate va bene signori allora detto questo io mi fermo qui per questo video vi ringrazio per per la compagnia per aver per i suggerimenti per i like per i commenti che mi lascerete noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao